I derby sono partite diverse, voglio dire noi sicuramente abbiamo lavorato negli ultimi dieci giorni sulle prestazioni che abbiamo fatto, sulle cose fatte bene e quelle fatte meno bene, le aspettative da questa partita sono, per quanto mi riguarda, molto alte, sicuramente l'approccio della partita sarà l'aspetto più importante. Mi chiedo se la scelta del modulo 3-4-3-3-5-2 è detta anche dal tipo di gara, di avversario e proprio la scelta negli 11 anche a livello di esperienza? Non dipende dall'avversario, dipende molto dagli interpreti che in questo momento abbiamo a disposizione che abbiano un minimo di condizione fisica accettabile. Alcuni ragazzi nuovi innesti sono arrivati da poco e non sono ancora al top e quindi l'idea è quella di mandare in campo i ragazzi che in questo momento stanno meglio. Mi chiedo se Pesenti partirà dal primo minuto e se Belloni è recuperato? Belloni è recuperato, è presente e ha disposizione ma è l'ultima valutazione che farò prima di decidere gli undici che andranno in campo. Come si batte Perugia? Perugia si batte con entusiasmo, consapevolezza e grande cattivaria agonistica perché come dicevo prima i derby sono partite diverse e spesso potentieri anche i valori tra una squadra e l'altra vengono ribaltati.